Nell'ambito dell'indagine denominata Rosa dei Venti che ha visto l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania, nei confronti di 11 soggetti appartenenti ad un'organizzazione criminale italo-albanese dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania si sono recati nei giorni scorsi in missione a Tirana, in Albania. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Catania hanno consegnato gli atti afferenti il procedimento penale in argomento alla Procura Generale Albanese ed hanno partecipato alle fasi relative all'arresto di uno dei quattro soggetti di nazionalità albanese non rintracciati nel territorio italiano e tutti destinatari del mandato di cattura internazionale emesso dal GIP Etneo. In particolare si tratta di Seiti Nezar, nel suo ruolo di referente logistico e responsabile degli sbarchi in Italia della sostanza stupefacente nell'ambito della componente albanese dell'organizzazione. È stato accertato, a carico del sodalizio criminale internazionale, un ulteriore carico di marijuana dall'Albania all'Italia di circa 4.000 chili sequestrato nello Stato estero, anche a seguito dello scambio informativo realizzatosi tra le autorità giudiziarie. L'organizzazione italo-albanese negli ultimi anni era riuscita a trasportare in Italia dalla costa oltre 3.500 kg di marijuana, che veniva sequestrata in più occasioni nel corso di lunghe e complesse indagini. L'associazione a delinquere, la cui disponibilità di armi e munizioni è stata accertata con l'esecuzione di sequestri di fucili tipo Kalashnikov e centinaia di munizioni, aveva acquisito il controllo dell'importazione dall'Albania di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo marijuana, che poi venivano utilizzati per approvvigionare le piazze di spaccio sia di Catania che delle province di Ragusa e Siracusa, realizzando un giro d'affari di oltre 20 milioni di euro. La collaborazione internazionale tra autorità giudiziarie ha così consentito di ultimare efficacemente l'esecuzione del provvedimento giudiziario emesso dal GIP del Tribunale di Catania.